benvenuti picciotti a questo nuovo video dove vi spiego come e cosa fare al primo avvio della vostra playstation 5 la prima cosa quando accenderete la playstation 5 la prima volta sappiate che vi chiederà di fare l'accesso ovviamente a playstation network vi consiglio di farlo da app quindi scaricate l'app ufficiale playstation sul vostro cellulare fate login e semplicemente con un codice riuscirete a fare l'accesso anche da lì avendo tutto sincronizzato se poi vorrete passarvi i giochi playstation 4 a playstation 5 con tutti i salvataggi basterà collegare entrambe le console alla stessa linea internet ci sarà un procedimento molto semplice e guidato che ho già fatto adesso andiamo a vedere anche gli altri passaggi che vi consiglio di fare eccoci qua su playstation 5 il secondo passaggio che vi consiglio è quello di disattivare la modalità riposo della console non ci sono ancora cose ufficiali però se siete in diversi gruppi social eccetera vi accorgerete che una lamentela molto comune è un bug dovuto alla modalità di riposo che crea qualche problema alla console per farlo vi recate le impostazioni in alto a destra sistema risparmio energetico impostate il tempo della modalità riposo a mai stessa cosa durante il gioco le funzioni disponibili vabbè io ce l'avevo già programmata così per comodità e poi il controller che non si spegne mai altro passaggio fondamentale è un'opzione che è quella lì delle opzioni di gioco che abbiamo già spiegato quando nell'altro video vi ho fatto vedere come portare cold war a 120 fps su console ve lo faccio rivedere anche qui andate in dati salvati impostazioni giochi app pre impostazione del gioco difficoltà predefinita del gioco ma se volete potete decidere anche la difficoltà in modo da non doverla impostare in ogni gioco modalità prestazioni se volete avere la possibilità nei giochi che lo permettono di giocare a 120 fps e poi potete organizzarvi anche per la visuale in prima persona o terza persona altra cosa personalizzabile molto importante secondo me è il centro di controllo di playstation cliccando sul pad al centro dove c'è il tasto ps una sola volta vi spunta il centro di controllo che è questo qui dove avete semplicemente la home switcher cioè tutti i giochi aperti e che potete aprire le notifiche gli amici online che qua si chiama game base l'audio il microfono controller vabbè il vostro account e la possibilità di spegnere o mettere in modelli di riposo la console c'è un modo per personalizzare tutto questo e basta cliccare il tasto il vecchio tasto opzioni questo qua con le tre righette in altro in alto alla vostra destra del pad e potete personalizzare le opzioni visibili alcune non è possibile selezionarle perché semplicemente spunteranno in caso di download di post acqua centrale che vedete fra accessibilità e rete in caso di download spunterà e così via io attualmente tengo solamente questi visto che lo uso la console soprattutto per streamare quindi non ho bisogno dell'opzione trasmissione non ho bisogno dell'opzione musica eccetera perché gestisco tutto da obs studio un'altra cosa importantissima per ottimizzare lo spazio della memoria e risparmiarlo quindi è quella che di default la playstation 5 salverà per ogni trofeo dei piccoli video e io vi consiglio di annullare questa cosa in modo da avere più spazio disponibile nella memoria catture trasmissioni trofei questa spunta sarà attiva disattivate la e disattivate anche questo ok così non salva né istantanee né trofei vi aggiungo una volta trovate qui che potete sistemare l'istante nella fermata mettendolo in formato jpeg o png vi dà la possibilità a voi di scegliere e potete scegliere anche il formato della clip in base a cosa volete qualcosa di più efficiente o più compatibile e se introdurre l'audio del party e il microfono oppure no è veramente veramente molto comoda questa cosa per le trasmissioni perché stream ma direttamente da console potete scegliere fra queste opzioni che vedete mentre per chi stream ma come me da pc in quel caso avete bisogno di una scheda acquisizione io personalmente ho legato hd 60s ultima cosa ma non meno importante che vi avevo già accennato nello scorso video è quella di assicurarvi che state giocando alla versione playstation 5 del gioco perché molti giochi sono compatibili su entrambe le console come ad esempio cold war vi avevo già fatto vedere come si fa però quando scaricate il gioco assicuratevi che avete scaricato la versione giusta come vedete io qui ho la possibilità di scegliere solamente fra versioni playstation 4 infatti se ci clicco mi dice di scaricarla mentre avevo già la versione playstation 5 completa perché ho comprato il gioco su entrambe le piattaforme quindi assicuratevi di questa cosa perché veramente molto importante per i giochi in quanto cambia veramente la qualità grafica e le opzioni disponibili in base alle impostazioni ad esempio cold war non potremmo giocarlo a 120 fps se mettete la versione da playstation 4 detto questo sono finiti i miei consigli su cosa fare al primo avvio di playstation 5 vi ringrazio per la visione se vi è piaciuto il video lasciate un like e un commento qui sotto in descrizione e iscrivetevi al canale e vi invito a seguirmi tutti i pomeriggi in live su twitch al prossimo video